ha ordinato online 4 smartphone per un valore complessivo di 6.000 euro, mettendo un destinatario fittizio e come clausola di pagamento il contrassegno. L'obiettivo? Attendere il corriere per mettere in atto il furto sul furgone e fare incetta dei cellulari nuovi di pacca. Per questo i carabinieri della tenenza del settimo torinese hanno colto sul fatto l'autore, un ventunenne già noto alle forze dell'ordine e l'hanno arrestato venerdì pomeriggio. La refurtiva è stata tutta recuperata e restituita. Gli investigatori invece stanno raccogliendo in queste ore ulteriori elementi per ricostruire fatti analoghi e identificare eventuali complici. Il modus operandi infatti pare sia stato replicato anche nelle regioni limitrofe a quella piemontese. Grazie a tutti.